Siamo a Brugnello, guardate che belle queste sedie fatte con le pietre. Ciao, qui i luoghi d'incanto si mescolano con il cammino e un viaggio strepitoso a Brugnello. Brugnello, o no? Brugnello, in piacenza. Vabbè, però almeno così si capisce che... E' una vita. E' un lavatoio che c'è qua. Che bel panorama sulla Val Trebbia. Mamma, da qui! Guarda, la prossima volta... Guarda come si vede. Ma tu pensate al fiume lì cosa fa? Cioè fa tutto il giro, poi scava e ritorna indietro lì, guarda. A me sembra piuttosto un rischio alto e mi interessa di più questo. E' un latoio. Cioè, hai visto qua come fa il film? Fa così, così, così. Che fa il sovrano. Tu mi riporti a casa e mi porti di bene vino. Palla. Con calma. Una splendida micetta. Con questo panorama è proprio il top. Ma anche te lo sei. Prima o poi sarebbero venuti qua? E adesso è rovinato tutto. Esagerazione. Allora.